Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV. Allora siamo al 29 di gennaio, anche se dalle temperature non sembra, perché ieri addirittura erano 16 gradi, quindi insomma si stava davvero bene. Vediamo quanti gradi sono questa mattina. Allora, eccola qua, questa è la pagina del nostro osservatorio, accessibile da occhionanotizia.it, la temperatura di questa mattina alle 7.30, naturalmente vi parliamo dell'orario in cui stiamo andando in diretta, 9 gradi, siamo già a 9 gradi, quindi insomma è una bella giornata, ecco la fotografia. Allora, andiamo a vedere le previsioni del tempo, oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso, con temperature senza variazione di rilievo, anche domani, sabato 30, più o meno la situazione è identica a quella di oggi e la stessa cosa domenica, 31 gennaio avremo un cielo parzialmente nuvoloso per banchi di nuvole basse, specie al nord della regione per la presenza di velature, le temperature sono in lieve aumento. Il tempo sarà stabile sulle Marche anche all'inizio della prossima settimana. La prima pagina, ah ecco, vediamo il santo di oggi, giustamente, il santo di oggi è San Gelasio II Papa. Stiamo parlando di un santo che si chiamava Giovanni di Gaeta, dell'anno 1000, lui è stato eletto nel 1118, come è stato eletto a Pontefice con questo nome, Gelasio II, però è stata una vita piuttosto, un'elezione piuttosto turbolenta anche perché è stato eletto a gennaio, poi nel marzo fu costretto a rifugiarsi a Gaeta perché l'imperatore V, Enrico V, minacciava di farlo prigioniero, poi è tornato per un po' a Roma, è ritornato di nuovo, insomma è stata un po' difficile. Il sole è sorto alle 7.28 e tramonterà alle 17.14 minuti. E adesso i giornali, cominciamo dalla prima pagina del resto del Carlino. Questa è la fotonotizia, il tesoro del ladro acrobata. La polizia arresta lo scalatore delle grondaie e due complici. Un super bottino, è davvero un'operazione importante di polizia che ha messo al fresco due persone, uno di questi, soprannominato Iurichè, che addirittura proprio perché saliva e arrivava al quarto piano addirittura dei palazzi arrampicandosi sui pluviali, quindi andando su a mani nude, ed era uno velocissimo, alto 1,50, non altissimo, quindi è stato acciuffato e quindi adesso si trova in carcere. E c'era una refurtiva vastissima, più di 300 oggetti. A proposito, se avete subito dei furti, sappiate che in commissariato in questi giorni c'è la possibilità di visionare questi oggetti anche sul sito internet, quindi fate quello che dovete fare, cercate di vedere se c'è quello che vi hanno portato via. Poi sul giornale, su tutti i quotidiani, naturalmente il Corriere, il Carlino e il Messaggero, si parla anche del, ci ha reso conto la cronaca del funerale di Federico, il canto di Federico in un video, un video che è stato proiettato alla termine della Santa Messa, che si è celebrata a Cattabrighe, un video che chiude la cerimonia di addio, centinaia di giovani al funerale del ventenne, morto nello schianto del curvone. Poi, nelle pagine interne del Carlino, troverete anche l'evento dell'anno, cioè la Coppa Davis, Terra Rossa dunque che entra nell'astronave, cioè nel palazzetto dello Sport di Pesaro, un evento che è stato presentato da Nicola Pietrangeli, che appunto era a Pesaro ieri per Italia, Svizzera della Coppa Davis. È così caldo che sembra Santo Domingo, ieri 16 gradi, dicevamo, ora, dunque sono 8 gradi sopra la media. Nobili, adesso lo vedremo anche chi è, dice però non è ancora il record, e infatti non è il record, perché il record, secondo questo signore che il Carlino pubblica in questa fotografia, dice ci troviamo ok, sopra di quasi 8 gradi rispetto alla media. Però non è un caso isolato, infatti l'11 gennaio dello scorso anno ne abbiamo avuti 19 gradi, e questi sono quelli che la tradizione, i nostri nonni, chiamavano e chiamano ancora i giorni della merla, secondo la tradizione questo dovrebbe essere invece il periodo più freddo di tutto l'inverno, invece come abbiamo già detto, insomma, ieri erano 16 gradi. Andiamo sulla pagina di Fano del Carlino, vediamola subito, ex zuccherificio, fuori le idee, i cittadini diventano urbanisti, ma incombe l'incognita del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale. Il fine è rendere l'area dell'ex zuccherificio appetibile anche fuori Fano. Il Carnevale è più dolce, con le wings pronti, 85 quintali di cioccolatini e caramelle per accogliere le fatine dei bimbi. Domenica sono stati lanciati, domenica scorsa, 10 quintali in più di baci, bacetti e snack. Dunque per gli organizzatori del Carnevale le polemiche di questi giorni sulla qualità del getto, sulla quantità del getto, insomma, sono polemiche inutili. E i baci, i carri, le 50.000 presenze e il biglietto, insomma, tutte questioni che sono sul tavolo, questioni delle quali se ne sta comunque interessando il Presidente Luciano Cecchini con i suoi collaboratori. Qua naturalmente troverete anche tutto il programma di questi giorni. Poi, attenzione, c'è, vedete, la fotografia di Andrea Bocelli sul Carlino, perché oggi sarà a Fano, sarà a Fano quattro anni dopo la messa di Gloria che ha chiuso il cartellone del 2012. Bocelli tornerà sul palco del Teatro della Fortuna, ma attenzione, non sarà un appuntamento canoro, non si potrà ascoltare questo grande cantante mondiale, non potremo ascoltare la sua voce, ma neanche una conferenza aperta al pubblico. È un appuntamento esclusivo su invito riservato ai melomani, durante il quale verrà presentato un innovativo progetto multimediale made in Fano, realizzato a Fano, che servirà alle generazioni future per studiare l'opera lirica. L'altra pagina invece del resto del Carlino, sempre più malati di Alzheimer a Fano, in pochi anni sono aumentati del 20%, lo studio parla di circa 1200 anziani affetti dal morbo, erano mille soltanto pochi anni fa. Domani alle 20 al Teatro della Fortuna ci sarà una serata evento per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, che purtroppo capiscono soltanto quelli che vivono in casa con una persona affetta dal morbo di Alzheimer. Gli altri fanno un po' finta di nulla, ma insomma, visite e show e degustazioni, il FAI apre le porte dei teatri, iniziative a San Costanzo e a San Lorenzo in campo. Il Corriere Adriatico, sgominata la banda dei ladri acrobati, arrestati due albanesi e una donna italiana, li vedete qui sotto nelle fotografie, nel covo, gran parte della refurtiva, oltre 300 i pezzi di valore. E sotto invece, ecco l'altra notizia, rubano un salame, una birra e tre wuster a Sant'Ippolito e c'è il resoconto invece di altri furti, furtarelli più o meno grossi, realizzati in giro per la vallata del Metauro. Il Carnevale prova a prendere e a prenderci per la gola nel capannone dei dolciumi, così l'abbiamo chiamato ieri il cavo segreto, anche perché sì, in effetti non si sa dove sia questo capannone, dove comunque sono costruite le casse, le casse e gli scatoloni bancali con i dolci arrivati direttamente dalla sede della Perugina. In questo capannone ieri Cecchini e il sindaco Seri hanno parlato, hanno fatto vedere, hanno mostrato il getto delle prossime due domeniche e domenica prossima, nelle prossime due domeniche verranno lanciate 85 quintali di dolci. Il secondo appuntamento, cioè quello di domenica, questo a domenica, ci sarà la sfilata anche con le Winx, vedete qui c'è il presidente Cecchini con una fatina, che è appunto le Winx e sotto invece, anzi di fianco c'è il sindaco Seri che mostra un cioccolatino dei Baci Perugina. Rainbow invece, che è la casa produttrice che ha sede a Loreto delle Winx, ma così come altri cartoni animati, ebbene ha annunciato che con la Carnevalesca ci sarà un futuro di collaborazione. Fano infatti è stata scelta come sede di una delle sei tappe dello spettacolo Fatato sotto le stelle che verrà rappresentato a Lido il 18 e il 19 giugno prossimo, mentre nel 2017 un intero carro allegorico sarà dedicato appunto alle Winx, con ulteriore partecipazione delle splendide Fatine. I volontari del Cibi Club Mattei sono in questi giorni impegnati all'estero, in Danimarca, per una importante esercitazione europea insieme ai volontari dell'Ares, composta da medici e infermieri e un paio di operatori provenienti da tutte le province marchigiane. Tra l'altro credo che in scaletta ci sia questa sera nel telegiornale, proprio un collegamento con il responsabile della protezione civile della città, con Olivi, proprio dalla Danimarca. Raid di ladri, spiagge devastate, furti a rafica tra Fano e Marotta, bottini inesistenti e danni per migliaia di euro. Infatti, così come vi abbiamo detto e raccontato nei giorni scorsi nel nostro telegiornale, parlando appunto di questi ride nelle spiagge, qui siamo a Marotta su due stabilimenti, quello che si trovano in via Fadi Bruno, non c'è niente da rubare, dicono i titolari che tra le altre cose aggiungono, siamo indifesi perché non possiamo fare nulla, però dentro i capannoni non c'è assolutamente nulla da portare via. Andiamo sulla pagina di Senigallia perché ci sono problemi alla piscina per dei pezzi, la vasca adesso è proibita, un areatore si stacca e piomba dal soffitto, protestano gli utenti in possesso di abbonamenti mensivi. Ma la notizia, sempre dalla pagina di Senigallia, è un'altra e su questa mi soffermo perché vale per tutti, non solo per Senigallia, ma io non so più come dirvela sta cosa, il finto avvocato che truffa un'ottantenne, si presenta in casa dopo aver telefonato a questa povera donna di 80 anni che si è spacciato per un carabiniere, è la classica telefonata che hanno ricevuto un sacco di persone, cioè quella che annuncia che il figlio ha avuto un incidente, che in questo momento si trova all'ospedale, non è niente di grave, però siccome bisogna mettere in campo un avvocato, bisogna che qualcuno anticipa i soldi della parcella di questo avvocato. Se dall'altra parte voi non chiudete il telefono, questi vi infarciscono di cose che sembra vero perché c'è anche il complice che fa finta di essere carabiniere, che dice tante cose, insomma tutto sembra vero, in realtà è tutta una truffa, quindi chiudete il telefono, chiaro che non è facile, parliamo di donne anziane, uomini anziani, quando vi dicono che suo figlio ha avuto un incidente non è una cosa semplice, la prima sensazione è quella di smarrimento, si pensa subito alle condizioni, insomma però che dobbiamo fare? Purtroppo è così. Andiamo sempre sulla pagina del Corriere, a Trecastelli, entra nella fase operativa l'iter per la Casa della Salute, approvato l'atto per reperire i locali, la struttura dovrà avere una superficie minima di 400 metri, quadrati con possibilità di ampliamento, questi signori però avranno a che fare un giorno con la loro coscienza e quando avranno a che fare con la loro coscienza sarà forse troppo tardi. Federico adesso sarai tu a guidarmi le struggenti parole della sorellina Alicia che dall'altare commuove la folla riunita per l'addio al ventenne, il ventenne che sabato mattina all'alba alle 4.45 insieme all'amico è morto in un incidente stradale a Pesaro. Guardate le fotografie, c'è poco da dire, c'è poco da aggiungere, se non il dolore anche composto di mamma, papà, della sorella appunto, dei tanti amici che ieri lo hanno salutato. Noi diciamo giornalisticamente per l'ultima volta, in realtà non c'è un'ultima volta perché quando muoiono amici, persone care eccetera è un continuo, il ricordo continua per sempre. Andiamo sulla pagina del messaggero e qui si stringe lo stomaco per un'altra ragione, molto più terrena per i soldi, oltre 4 milioni di vitalizi stanziati i fondi per gli ex consiglieri e pensate i loro eredi. I beneficiari salgono da 125 a 138, ci sono anche i baby pensionati con meno di 60 anni, chi gode della rendita. Non riesco a leggervi questo articolo perché altrimenti, quindi ve lo leggete voi, acquistate il giornale se avete voglia di farvi, e leggetevi quello che ci sono i nomi, c'è tutto. Il giro del Cappero invece, questa è una cosa simpatica, via, il giro del Cappero in 500, in Fiat 500, guardate questi due ragazzi che presto si sposeranno, stanno facendo il giro dell'Italia e stanno anche facendo parlare di loro perché sono partiti lo scorso 18 gennaio dall'isola di Linosa e sono in viaggio lungo l'Italia, lungo lo stivale, ieri erano a Matera, a bordo di questa Fiat 500 Azzura del 1971, quindi ha 44 anni e lo scopo del viaggio è quello di promuovere il Cappero di Linosa, quindi se vi capita in queste ore di vederli in giro per le strade, sappiate che sono lì per promuovere questo Cappero di Linosa. Poi, niente freddo per la Merla, l'abbiamo già visto, anche il messaggero trova spazio, questo piccolo spazio per parlare delle condizioni meteo che per qualcuno certamente sono anche piacevoli perché quando si tratta di uscire, insomma, ecco, di sentire quest'area asciutta, senza umidità, senza neanche piacevole, però attenzione, la natura ha il suo corso e quando ci sono queste variazioni un po' troppo forti, così dicono i contadini, insomma, non è così bello avere tutta questa variazione. Pista ciclabile sotto il San Bartolo, finalmente si parte, i lavori sono stati appaltati, il Comune conta che siano finiti per l'estate, ma spunta il problema di una variante per bypassare i bagni. Andiamo per chiudere sulla pagina di Fano, invece, del messaggero, anche qui, l'ex zuccherificio, la parola adesso passa ai fanesi, avviato un percorso di partecipazione sul futuro dell'area, previsti incontri con ordini professionali, associazioni, anche assemblea aperte a tutti. Ancora proteste, invece, per le bollette da incubo, dopo i recenti casi, il Forum dei beni comuni e i 5 Stelle si mobilitano. Anche qui i bagnini nel mirino di Ladri e Vandali, poi l'azione cattolica diocesana, domani in marcia per la pace. L'azione cattolica della diocesi di Fano, Fossombrone e Caglipergola, propone una marcia della pace che coinvolgerà centinaia di persone ed attraverserà l'intero centro storico di Fano domani pomeriggio. Un evento che l'azione cattolica propone ogni anno. Ci si incontrerà alle 3 e mezzo del pomeriggio, alle 15 e 30, fino ad arrivare alla cattedrale passando sotto la porta della misericordia, che è quella della cattedrale. Poi, via il binario morto, arrivano 600 posti auto. Nuovo parcheggio alla stazione di Marotta, partito il cantiere. Fusione delle aset, ultimatum sui tempi. Chiudiamo con la pagina di giorno e notte per farvi vedere che anche qui si parla di carnevale, il carnevale che è pronto a volare con le Wings. Grazie per la vostra attenzione, vi auguro una buona giornata e vi ricordo che questa sera siamo di nuovo in onda con tutti gli aggiornamenti della giornata raccolti nel contenitore che si chiama Occhio alla Notizia, che è il nostro telegiornale. Arrivederci. Grazie.